Oggi è la giornata dell'orgasmo Oh! Per alcuni di noi è una specie di giornata di lutto in memoria dei bei tempi andati Ma non è che ho avuto l'ultimo? Dicevamo Per altre è una specie di giorno di Santa Lucia per adulti Tutti dicono che esiste ma tu non l'hai mai visto Poi però ci sono anche quelle più fortunate Ovvero Quelle che sono bravissime a raggiungerlo da sole Scherzi a parte Io non stavo scherzando, è vero prima In onore di questa importantissima ricorrenza Ecco le 5 cose anti-orgasmo che prima o poi tutti gli uomini fanno Uomini prendete appunti che dopo vi interroghiamo Al quinto posto c'è il quiz a premi Mentre siete su più bello Lui inizia a martellarvi di domande tipo Gianriscotti Allora? Ti piace? Sei venuto? Allora ci sei quasi Basta! Che cos'è questo? L'orale della maturità? Quanto tempo abbiamo per rispondere? Ansia Chiedo l'aiuto del pubblico o la telefonata a casa? L'accendiamo? Ma soprattutto Abbiamo vinto qualche cosa? Al quarto posto c'è la chiamata dell'ascensore Ovvero quella perla d'uomo Che tocca il nostro clitoride Come se fosse il pulsante difettoso dell'ascensore Piano, fate piano Il nostro clitoride non è il pulsante del semaforo pedonale Che tra l'altro potete pure continuare a schiacciarlo ossessivamente Ma non è che il verde scatta prima Quello è semplicemente un contatore per vedere quanti pirla ci sono in giro Che ancora credono a questa storia Manecciate con cautela, giaguari Non state né modellando il dido né facendo la pizza, d'accordo? Chiamare ossessivamente l'ascensore non lo farà venire prima No, 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 no Tra l'altro se stiamo parlando del nostro clitoride E non dell'ascensore Non veniamo neanche noi Né prima Né dopo Al terzo posto c'è la caccia al tesoro Ovvero quelli che cercano il punto G Come Voldemort cercava la pietra filosofale Sauron l'anello O Indiana Jones il sacro grado Non vi state addentrando in una grotta o nella batcaverna Stiamo facendo sesso? Non stiamo giocando ai giovani esploratori Al secondo posto ci sono i 100 metri piani Dovete capire che noi al massimo abbiamo fatto la campestre, l'elementare E poi la nostra carriera sportiva Quindi che cos'è? Spirito di competizione? È una ripicca nei confronti dell'emancipazione femminile Non c'è altra spiegazione Perché ogni volta che noi stiamo per raggiungere l'orgasmo Voi che fate? Ingranate la super velocità E tagliate il traguardo prima di noi Sono arrivato prima io Gnei 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 Che poi per carità noi saremo pure lente Però ogni tanto voi siete un po' come la controfigura di Flash È del tutto normale Può succedere Però porca di quella miseria Mancano 5 secondi 5 Ripassate la tabellina del 7 O ripensate al vostro amico ubriaco Che vomitava l'anima e il gin 5 secondi 4 3 Questa cosa dovrebbe essere illegale Al primo fosso Le notifiche del cellulare Vi è mai capitato di fare sesso con uno Che nel frattempo ha il cellulare Che è tutto un Pi 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 Non vi è mai capitato? Braaave Braava braava Perché voi siete donne intelligenti a uomini Così non gliela date? Provateci a raggiungere l'orgasmo Tra la suoneria con l'ultima hit di Rihanna E le notifichine con tutte le trombette da stadio No non mi disturba affatto Mi dica Tra parentesi questo non è l'unico problema del sottotipo di amante sempre connesso Che molto probabilmente farà una cosa aberrante appena ha concluso Sto parlando della pratica antisesso per eccellenza Si metterà a scorrere beato le notifiche e i messaggi E questo lo stava facendo due minuti prima di iniziare a smanettare le nostre parti basse E hai ripreso a farlo due minuti È chiaro che noi siamo state l'immeritato apostrofo rosa tra le parole sei un coglione Questo è un messaggio importantissimo Massima diffusione L'orgasmo è quasi sempre una questione di testa Non è un traguardo Non è importante raggiungerlo sempre da soli in coppia o guardando un porno L'importante è ascoltarsi Ascoltare l'altro e pretendere altrettanto Magari evitando qualche coglione Così Da dove con questo pippone io vado Anzi vengo Non faceva ridere Buon orgasmo a tutti Quello che ha preso la sua